Lalla di Uomini e Donne, chi è, di dove è, lavoro, foto, Instagram, Claudio. Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show più amato di sempre. Anche quest'oggi. A partire dalle 14, 45 su Canale 5, Maria De Filippi è pronta a regalare emozioni ai propri telespettatori e di colpi di studio in scena non mancheranno. In particolare. Oggi al centro dello studio c'è Claudio, per lui sono scese ben quattro signore. Con chi deciderà di approfondire la conoscenza all'uomo? Lalla è una signora molto bella. E di origini straniere ed è rimasta colpita dalla sensibilità e dalla bontà d'animo di Claudio. Anche lei è vedova e sembra fortemente intenzionata di iniziare una frequentazione con l'uomo. Come la prenderà Tina? Non ci resta che stare a guardare. Non ci resta che anglociano non metter l'uomo. Non ci resta che a bruciare in chiudere. Come la prendersi and andare a guardare. Grazie a tutti.